Abbiamo parlato anche di questo, lui ha detto che non ha ritenuto opportuno intervenire e questa è stata la sua risposta rispetto a questo. È chiaro che per noi comunque lo scandalo Trivellopoli è uno scandalo importante, è uno scandalo che coinvolge tutto l'esecutivo e che è chiaro che noi non ci fermeremo e continueremo a vigilare su quanto sta avvenendo.